Buongiorno, noi abbiamo visto la volta scorsa, di corsa ovviamente, i primi due capitoli di Giacomo, oggi vediamo il terzo, il quarto e il quinto. Che cosa trattano questi capitoli? E' un po' difficile fare una struttura del testo, perché si tratta di un testo pastorale, e quindi lui moltiplica i consigli. Nei primi dodici versetti del terzo capitolo parla della lingua. E certamente non è tenerissimo con questo nostro organo vitale, perché dice che è come il timone di una nave. Se il timoniere sa adoperare bene il timone, la nave funziona, se no è un disastro. E dice che nella vita la lingua ha lo stesso ruolo del timone, e non è facile governarla. Nei versetti successivi del capitolo terzo, parla della sapienza che viene dall'alto. Perché esiste una sapienza, dice lui, umana, e una sapienza che invece è celeste. A questo punto, il nostro amico Giacomo si svela. Perché molti studiosi dicono, ma Giacomo appartiene al mondo ellenistico, conosce molto bene il greco, è il miglior greco del Nuovo Testamento, ha pochi contatti con l'Antico, perché ne cita pochi, pochi brani dell'Antico Testamento nella sua lettera. Però c'è da dire questo. Nel mondo greco, la parola sapienza si dice Sofia. Stop! Nel mondo ebraico, invece, per dire sapiente, ci sono due parole. C'è la parola Hakam, che è il sapiente che ha accolto la sapienza che viene dall'alto. E c'è la parola Arum, che è il sapiente che si è costruito da solo la sapienza. Ma questa sapienza che si è costruito da solo, lo porta ad agire per il proprio profitto, calpestando ciò che è la giustizia e la verità. E quindi Arum è la sapienza umana del furbo, ma non del giusto. Questa duplice concezione della sapienza è tipica dell'ebraico. Il serpente, nel paradiso terrestre, viene detto che era la più sapiente di tutte le bestie. Ma in ebraico c'è l'aggettivo Arum, non Hakam. E quando lui dice, il nostro amico dice che c'è una sapienza umana e una sapienza che viene dall'alto, comprendiamo che questo è uno schema semitico, che lui conosce molto bene. Anche se scrive in splendido greco. E quindi il nostro amico Giacomo è un ebreo di lingua greca convertito al cristianesimo. Il capitolo quarto è suddiviso in tre momenti. Nel primo si tratta dei desideri. E su questo tema dice delle cose molto interessanti. Lui per esempio non dice desideri cattivi, desideri buoni. No, lui dice che i desideri devono passare attraverso il collo di bottiglia della preghiera. Tu hai un desiderio? Sì, chiedilo a Dio. Chiedi che Dio esaudisca questo desiderio. Se è un desiderio buono Dio lo esaudisce, se no no. E quindi il filtro dei desideri non sei tu, è Dio. Perché il desiderio va fatto passare attraverso la preghiera. Quando il desiderio non viene fatto passare attraverso la preghiera diventa causa di divisione. Perché il desiderio porta alla concezione del se io desidero ho diritto. Se ho diritto devo avere, se devo avere a qualunque costo bisogna che conquisti. Capite che entriamo in una spirale di violenza fisica, psicologica, dove non c'è il rispetto di quello che è il giusto e di quello che è il vero. Per cui il nostro amico non è contrario a nessun desiderio. Dice semplicemente fallo passare attraverso la preghiera. Se Dio ti viene incontro e te lo dà, va bene, se no caine, lascia perdere. Nella seconda parte affronta un tema che è modernissimo. Non giudicare il prossimo. Chi giudica il prossimo giudica la legge. Certo noi italiani siamo abituati a criticare le leggi che fa il nostro Parlamento e facciamo bene. Ma qui si parla della legge di Dio. Non giudicare il prossimo non significa rimanere scemi. Significa che tu giudichi le azioni e quelle le devi giudicare. Ma il giudizio non deve passare dall'azione alla persona. Perché? La persona può sbagliare, ma può anche cambiare. L'azione invece resta cristallizzata nella storia. Quello è successo. E quello che è successo è giusto o sbagliato, lì scateni tutta la tua capacità critica. Ma non sull'individuo, perché l'individuo può cambiare. L'ultima parte del capitolo quarto parla della società moderna. Parla del comportamento arrogante che c'era allora e che purtroppo c'è oggi. Capitolo quinto. Anche il capitolo quinto è suddiviso in tre parti. Nella prima parte c'è un ammonimento molto severo verso i ricchi e anche questa parte è di una modernità straordinaria. Perché? Perché affronta, è la prima volta nel Nuovo Testamento il concetto di paga giusta agli operai. Dice voi vi siete arricchiti non pagando il salario giusto agli operai. E in questo caso Giacomo è un lontanissimo discepolo di un profeta dell'ottavo secolo che si chiama Amos e che scherzosamente noi biblisti chiamiamo il sindacalista dell'ottavo secolo. Amos è un profeta estremamente attento ai fenomeni sociali e dice la cosa più semplice di questo mondo. perché esistono le ingiustizie nella società? Perché abbiamo un concetto sbagliato di Dio. Avendo un concetto sbagliato di Dio pensando che Dio ci giudichi per le preghierine che diciamo per i fioretti che facciamo e non per la quotidianità corretta allora noi diciamo le preghierine portiamo i fiorellini alla Madonna e poi nella società ci comportiamo da Lazzaroni. Dio non vede. Dio è talmente stupido che si accontenta si ubriaca di due preghiere e quattro fiori. E Amos dice guardate che le cose non stanno così perché prima o poi Dio ti allunga un ceffone che ti sistema. Nella seconda parte del capitolo quinto l'autore affronta sempre in maniera pastorale pastorale significa che non dà motivazioni invita a praticare certe virtù dà degli orientamenti e poi passa ad un altro argomento. in questi pochi versetti in questi cinque versetti lui affronta il tema della pazienza e più o meno dice così guardate che la pazienza è una virtù fondamentale non solo per sopportare le persone moleste e ce ne sono tante. E io non so come vai medici e preti sono come le antiche spirali a chiappa mosche. Vabbè la pazienza dice il nostro amico è una virtù essenziale per sopravvivere nella società ma è anche una virtù importante nell'attesa della fine del mondo perché la fine del mondo non possiamo calcolarla e dobbiamo attenderla nella pazienza. Questa pazienza però non significa rassegnazione. La pazienza dice il nostro amico Giacomo è la convinzione che aspetta qualche cosa di certo. l'ultima parte a cui noi presteremo più attenzione che non alle altre perché prenderemo due testi proprio da questa parte ci sono diversi ammonimenti alla comunità che guarda caso sono incastonati dentro un'inclusione fratelli miei che si trova al versetto 12 e al versetto 19 di che cosa tratta questa parte fondamentalmente di tre temi il giuramento e dice di non farlo ovviamente l'unzione degli infermi la confessione dei peccati poi una pennellata velocissima sulla preghiera e una pennellata velocissima sul perdono dei peccati senza la confessione noi vedremo l'unzione dei malati e la confessione reciproca e poi daremo un'occhiata a questo perdono dei peccati senza il sacramento prima prima di inoltrarci in queste tematiche che ci possono toccare da vicino è giusto che diamo un'occhiatina ad un piccolo problema Giacomo a quale teologia appartiene del Nuovo Testamento perché nel Nuovo Testamento fondamentalmente c'è la teologia Matteano-Marcana un blocco Lucano-Paolina secondo blocco terzo blocco quella giovanea sono tre impostazioni teologiche diverse e studiando i testi ci si accorge che Giacomo appartiene al primo blocco a quello più antico lui segue in maniera particolare Matteo e io qui ho voluto portarvi tre brevi esempi di testi paralleli tra Giacomo e Matteo ce ne sono almeno una trentina io ho preso un decimo e ho detto solo per curiosità è giusto che li mettiamo in paragone dunque al capitolo primo versetto 22 Giacomo dice siate di quelli che mettono in pratica la parola e non ascoltatori soltanto illudendo voi stessi mettere in pratica la parola è il tentativo di traduzione di questo Ginesse siate Poietai Logu Poietai vuol dire poeti deriva dal verbo Poieo che è un fare inventivo non è una tecnè un fare ripetitivo e quindi più che mettere in pratica bisognerebbe dire che siate incarnatori della parola perché non c'è un'esecuzione meccanica se il tuo occhio ti dà scandalo cavalo e via tutti quanti con un occhio solo non è questo il mettere in pratica la parola vai e fai anche tu lo stesso sarebbe uno spettacolo da giornale che uno vada via col mus in autostrada prenda l'incidentato lo carichi sull'asino lo porti al primo bar che trova e dica all'oste provvedi che il prossimo anno passo di qua e pago io è stupido oggi noi facciamo i buoni samaritani donando sangue donando il midollo facendo l'assistenza in ospedale notturna a chi è povero le forme sono diverse ed è per questo che il nostro amico adopera questa espressione poietai cioè capaci di avere la fantasia che produce un risultato quella parola la incarni nella tua situazione che certamente non è una situazione fotocoppia rispetto a quella situazione dove Gesù ha illustrato l'invito a comportarsi in un certo modo e dunque questa espressione è tipica direi pittoresca e poi dice non ascoltatori soltanto questo soltanto è assassino e infatti voi trovate il verbo acroaomai non il verbo acuo perché chi ascolta soltanto non diventa poeta della parola capisce dice che bella idea ma questa parola che ha capito non diventa operativa nella vita ora al capitolo settimo di Matteo versetto 24 siamo alla fine del discorso della montagna vediamo cosa dice Gesù perciò chiunque ascolta e notate che il verbo è acuei non è acroaomai voi dite dovrebbe farci un'iniezione di greco in modo che con l'iniezione trac tutta la grammatica è imparata non è così l'angelo per indicare le parole di Gesù adoperava il termine acuo che è un procedimento completo orecchio testa intelligenza testa memoria memoria sentimento dunque perciò chiunque ascolta mutus logus le parole di me queste cai poiei autus traduzione italiana standardizzata e le mette in pratica poietai logu poiei autus autus è il pronome personale che rappresenta la parola logus cai poiei logus poiei autus notate che è la stessa costruzione c'è poieo più il genitivo cosa sta dicendo Gesù perciò chiunque ascolta queste mie parole e le incarna nella sua situazione non è un'esecuzione meccanica sei tu che devi renderti conto dove puoi esprimere quel sentire profondo che la parola ha prodotto in te e ti accorgi allora che il tuo mondo interiore ha una ricchezza di sfaccettature straordinarie perché il buon samaritano come vi dicevo prima può diventare il dono del sangue il dono del midollo l'assistenza notturna del povero in ospedale esistono tante forme per tradurre quel va e fa anche tu lo stesso ma allora tra vangelo e realtà occorre una poesis non una tecnè la tecnè è ripetitiva la poesis è questa capacità di incarnare nelle situazioni concrete sempre varie diverse l'insegnamento che Cristo ha dato e Giacomo ha imparato molto bene la lezione da Matteo perché questa espressione è estremamente indicativa del pensiero di Gesù espresso nel Vangelo di Matteo secondo esempio il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà avuto misericordia lo abbiamo visto l'altra volta la misericordia ha sempre la meglio sul giudizio prima ti dà la sberla poi ti fa la carezza ti dice il comportamento che hai avuto tu verso gli altri sarà il comportamento che Dio avrà con te poi però è come se dicesse anche per te che sei un egoista c'è una speranza perché in Dio la misericordia ha sempre la meglio sul giudizio e siccome tu dovresti essere imitatore di Dio datti una mossa quando giudichi non i fatti ma quando tenti di essere portato a giudicare le persone come Dio con te adopererà più la misericordia che non la sentenza anche tu adoperai più la misericordia che non la sentenza questo dice Giacomo Gesù in maniera molto più sintetica dice beati misericordiosi perché troveranno misericordia e lo stesso pensiero qui c'è qualcosa di più c'è qualcosa di più perché questa beatitudine sotto il profilo stilistico è parallela a beati poveri in spirito dove si riesce a capire chi sono i misericordiosi sono coloro che hanno il cuore libero se il tuo cuore è libero dalla schiavitù della ricchezza del potere della gloria e soprattutto di quel mostricciattolo che è il tuo io ipertrofico se dunque sei povero nello spirito e qui sei libero dall'io dall'attaccamento alle ricchezze eccetera eccetera allora sarai misericordioso perché il misericordioso ha due sbocchi comportamentali da un lato c'è il perdono e dall'altro c'è la compassione operativa tu non puoi essere misericordioso se non sei povero nello spirito però sappi che se sei misericordioso Dio sarà così con te troverai misericordia e il concetto rovesciato il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà avuto misericordia è praticamente questo principio tradotto in negativo poi il positivo in Giacomo viene alla fine e viene annunciato come principio per dire tu cristiano imita Dio il terzo esempio è tratto dal capitolo quinto versetto nove è un po' difficile metterlo in pratica soprattutto per chi vive in comunità vive cioè con persone che non si esce scelto già è difficile vivere con persone che ci siamo scelti marito moglie con persone che non ci siamo scelti è un problema e infatti noi preti qui in seminario ridacchiando diciamo vita comunis mea maxima penitencia io io e Don Antonio Tessari ci vogliamo bene mangiamo accanto ci raccontiamo anche le storielle però lui deve sopportarmi perché io studio fino a mezzanotte fino a luna lui si alza le cinque e mezza mi spiego quindi a me cade un libro sposto la sedia apro la scala per andare a prendere un libro su in alto e lui povero sente tutto ma anch'io la mattina alle cinque e mezza quando lui fa il balzo del canguro fuori dal letto sento perfino il rumore delle coperte la sveglia perché abbiamo un edificio costruito negli anni sessanta dove l'insonorizzazione non sapevano neanche che cosa fosse questa è la vita comune e la vita comune dunque porta non parliamo poi di certe convivenze forzate dunque non lamentatevi fratelli gli uni degli altri per non essere giudicati ecco il giudice alle porte Gesù dice nel Vancello di Matteo capitolo settimo non giudicate per non essere giudicati le parole di Gesù sono molto più incisive quando morirai Dio ti giudicherà fermati tu nella vita hai giudicato le azioni o hai giudicato le persone ho giudicato le persone allora Dio ti giudicherà ho giudicato solo le azioni non ho mai giudicato le persone allora Dio non ti giudicherà scritto lì non giudicate per non essere giudicati è scritto è scritto sì o sì mettere in testa e Gesù che sa che noi siamo craponi continua perché non giudicate per non essere giudicati perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi le misure le abbiamo con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi grazie queste sono frasi che a noi non piacciono ma ve lo garantisco che appartengono al Gesù storico quando io faccio ai miei amici qui in seminario prossimo anno dovrebbe toccare il corso sul Gesù storico spiego loro quali sono le tecniche per riuscire a distinguere certo loro mi guardano e mi dicono che sono un sognatore perché pretendo da loro una conoscenza del testo greco con un'immediata retroversione in aramaico e allora mi dicono vabbè però si può fare tra i biblisti siamo in molti che siamo capaci di fare questa cosa e vi garantisco che queste sono frasi del Gesù storico le ha dette non sono un midrash della chiesa nascente non giudicate per non essere giudicati l'ha detto sì l'ha detto perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi l'ha detto sì e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi l'ha detto sì tirate le conclusioni ognuno per sé perché la nostra tentazione è quella di tirare le conclusioni per chi ci sta seduto accanto ma non per noi bene che cosa abbiamo appurato che il nostro amico Giacomo appartiene alla teologia di Gerusalemme Matteo e Marco rappresentano la tradizione primitiva quindi una elaborazione non molto articolata ma estremamente gelosa di un principio trasmettere ciò che Cristo ha detto ciò che Cristo ha fatto Paolo invece ha una teologia che cerca la transculturazione ciò che Cristo ha detto e ciò che Cristo ha fatto come può essere ridetto in una cultura che non ha gli stessi parametri della cultura semitica Paolo è il traduttore greco del cristianesimo è quello che trasloca alcuni concetti dal mondo ebraico al mondo greco e li esprime molto bene il passaggio culturale che non è solo linguistico ma è proprio di struttura mentale lo fa molto bene Giovanni invece è quello che approfondisce che articola la teologia rozza numero uno però fedele rozza e fedele transculturazione approfondimento dell'uno pillole di cultura cattolica noi prestiamo attenzione invece a questi due brani capitolo quinto versetto quattordici e sedici prima però di affrontare il brano vorrei fare una breve introduzione quando noi oggi parliamo dei sacramenti e diciamo guardate che i sette sacramenti vengono da Cristo e dalla chiesa nascente e noi pensiamo in automatico che nella chiesa nascente Pietro andava a confessarsi da Andrea e Andrea le diceva di l'atto di dolore che poi io ti dico io ti assolvo dei tuoi peccati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo abbiamo questa concezione ingenua se noi dovessimo fare lo studio storico di come si è voluta la forma dei sacramenti rimarremo stupiti vi faccio un piccolo esempio se io fossi stato un peccatore dell'epoca di Carlo Magno nono secolo io andavo dal prete mi confessavo il prete mi diceva per penitenza fai un pellegrinaggio e allora da Pordenone andavo giù a Roma arrivavo a Roma attraversavo la soglia di una delle quattro grandi basiliche romane fine del problema ero assolto ma manca era la soluzione no 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 quella era la forma su al nord della Francia i vescovi hanno detto sì buonanotte noi abbiamo qua le tribù che gironzolano dappertutto tu oggi confessi cioè ascolti i peccati di un penitente gli dici fai due anni di pane e acqua al martedì e al venerdì poi torna preghiamo insieme e sei assolto quello non tornava perché dopo due anni si trovava in Ungheria con la sua tribù e allora i vescovi francesi a Chalon-sur-Saon decidono bene il penitente si confessa di assolverlo ma non con questa formula c'era un rito simpatico allora il penitente si confessava usciva fuori dalla chiesa rimaneva lì il prete era sull'altare il diacono andava fuori chiedeva formalmente cos'è che vuoi il perdono allora il diacono tornava su dal prete gli diceva guarda che ce l'ha uno che chiede il perdono il prete dice no è pecatore non glielo do e il diacono ricordava al prete la parabola del figlio al prodigo allora il prete si alzava faceva tutta la navata usciva fuori metteva un ramo della stola sulla mano del penitente e lo portava dentro in chiesa quella era la soluzione la formula attuale è nata nel dodicesimo secolo prima non c'è la formula non c'è perché il modo di perdonare il modo di esercitare il sacramento era diverso non possiamo dunque pensare oggi che i sacramenti nella chiesa nascente fossero a fotocopia di come li viviamo oggi la forma può cambiare non c'è nessun problema è la sostanza che non cambia e noi vedremo in questo brano come la sostanza c'è però è un qualche cosa che meraviglia quando noi leggiamo le antiche memorie di qualche assedio per esempio di qualche città toscana nel novecento non millenovecento nel novecento noi leggiamo che i soldati piantavano la spada per terra e confessavano i propri peccati all'elsa della spada ed erano assolti una pestilenza il marito sta morendo confessa i peccati alla moglie e questa confessione lo assolve speriamo che non ci fossero di mezzo tradimenti perché era un problema e noi diciamo ma come il laico può assolvere ma non c'era la soluzione nel senso tecnico perché la forma della confessione allora consisteva nel dire i peccati il perdono arrivava attraverso moltissimi modi varchi la soglia della chiesa preghi con il prete preghi con la tua donna o con tuo marito offri la tua vita per la difesa della città erano tutte forme di perdono nella chiesa nascente hanno elaborato oltre al sacramento altre forme di perdono lo vedremo noi adesso leggeremo un testo dove c'è la testimonianza di due sacramenti l'unzione degli infermi e la confessione dei peccati quello che noi chiamiamo la confessione sacramento della riconciliazione naturalmente non dobbiamo immaginarci di trovare quello che viviamo oggi dunque chi è ammalato chiami presso di sé i presbiteri della chiesa ed essi preghino su di lui ungendo con olio nel nome del Signore chiami presso di sé i presbiteri della chiesa questi sono i sacerdoti perché non li chiama iereus perché sacerdoti in greco si dice iereus uomo sacro ma li chiama presbiterus se c'è qualcuno che fa questa domanda io gli do una piccola penitenza che è la lettura di tutta la lettera agli ebrei dove si dice con chiarezza che noi abbiamo un solo sacerdote Gesù Cristo perché il compito del sacerdote è quello di essere presso gli uomini e contemporaneamente presso Dio perché il compito del sacerdote è quello da fare da pontifex costruttore di ponti tra Dio e l'uomo e l'unico uomo che è in mezzo agli uomini io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo e contemporaneamente è con Dio è risorto e siede alla destra del padre e Gesù Cristo e quindi solo lui è iereus sacerdote noi siamo amministratori del suo sacerdozio e quindi non possiamo essere chiamati come lui veniamo chiamati presbiteri tra il sesto e il settimo secolo dopo Cristo è invalso il costume e la consuetudine di chiamare i presbiteri sacerdos perché in quel periodo gli schemi veterotestamentari sono stati portati nel cristianesimo per cui in chiesa non c'è la mensa tutti i padri della chiesa parlano di mensa dell'eucarestia tavolo della sala da pranzo tra il sesto e il settimo secolo la mensa dell'eucarestia diventa la ara cioè l'altare del tempio di Gerusalemme e si è cominciato a chiamare altare di per sé sarebbe mensa Gesù non ha celebrato l'eucarestia su un altare ma su una tavola su una mensa c'è questa ebraicizzazione il vescovo è stato chiamato sommo sacerdote pontifex che era il nome del sacerdozio pagano dunque quei secoli li hanno assorbito un vocabolario che noi oggi tranquillamente adoperiamo come se fosse cristiano no è un vocabolario cristianizzato ma l'origine è o ebrea o pagana il vero nome di Don Renato e dei suoi confratelli è presbitero yes storpiato dalla gente in prete perché presbitero è troppo lungo prete è più breve chi è malato chiami presso di sé i presbiteri della chiesa ed essi preghino su di lui ungendolo con l'olio nel nome del Signore questa è la testimonianza dell'unzione degli infermi la preghiera fatta con fede salverà il malato il Signore lo solleverà tenete presente questo verbo e se ha commesso peccati li saranno perdonati l'unzione degli infermi perdona i peccati quindi non esiste solo la confessione versetto 15 16 quasi con un concetto che aggancia quello che è stato appena detto Giacomo scrive confessate perciò i vostri peccati gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri per essere guariti è interessante trovate fin da subito questo dire i peccati la preghiera diventa l'assoluzione quello che noi chiamiamo assoluzione è un modo con cui veniva esercitato il sacramento della riconciliazione ma ce n'è un altro lo vedremo dopo fratelli miei se uno di voi si allontana dalla verità e un altro ve lo riconduce costui sappia che chi riconduce un peccatore dalla sua via di errore lo salverà dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati suoi tu aiuta uno a convertirsi ai peccati perdonati interessante bene sono le dieci e venticinque noi siamo peccatori e quindi il caffettino andiamo a prendercelo undici meno un quarto ce la facciamo grazie 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 grazie